Miau a tutti Però vi volevo parlare delle cose per la skin care Che mi hanno lasciata veramente Estasiata E sono della Pure Derm Sono davvero estasiata dalla resa che danno i prodotti Della Pure Derm che sarebbe questa marca qui Che ho scoperto Grazie alle instagram stories di Ale Hilton Che vi consiglio davvero tantissimo di andare a seguire Su instagram perchè veramente Mi è molto molto utile Per le recensioni che fa su trucchi Sulla roba appunto della skin care e cose del genere Magari può essere utile anche a voi Ho quindi contattato questa azienda per chiederle Se le andasse di fare una collaborazione con me Proprio perchè ero curiosissimissima Di prodare Di provare i loro prodotti E devo dire che veramente sono Fantastici Mi hanno mandato questa scatolina contenente Una patch per le labbra Un revitalizzante per i capelli E due mascherine Di quelle appunto in Come si chiama Quelle Che ti metti così Oh mio dio non mi viene il nome Queste Dai ci siamo capiti Quelle che vi fanno sembrare una specie di mostro Ma che fanno un botto Se sono buone Questa marca ha un miliardo e mezzo di prodotti Questa è tutto il libricino Con tutte le cosine E io vi consiglio Veramente 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 Ma ve lo dico proprio sinceramente Di andare sul sito A dare un'occhiata Perchè sono cose molto valide Io sicuramente ci ricomperò Ve lo dico Non faccio la recensione Giusto perchè mi hanno mandato La roba gratis La roba del genere Cioè la collaborazione Gliel'ho chiesta io Quindi Veramente Validissimi